Dimmi che vi servo lì Jack, non hai cancro Dio, è tremendo! Arrivo subito Masters gli ha iniettato la lidocaina nella schiena e il dolore è sparito Non ci servi qui Dobbiamo solo capire perché il suo corpo pensa che l'orecchio sia sulla schiena Perché l'orecchio prima era un'altra cosa Nel feto le cellule sono vicine, crescendo si distribuiscono e si specializzano Ma a volte il corpo fa casino e quelle mantengono i codici precedenti E fanno capo agli stessi centri del dolore Dolore riflesso Bellezza è cervello Pungendolo nella schiena avete interrotto la comunicazione con i centri del dolore nel midollo Quindi dobbiamo capire da dove arriva il messaggio Può essere la tiroide? L'ipertiroidismo spiegherebbe tutti i sintomi Oppure il fegato Bene, controlliamo il... Per la cronaca, il dolore riflesso non esclude un'infezione, si sta diffondendo... Eri così anche quando studiavi matematica? Se Euclidi avesse fatto una lezione Saresti stata nel primo banco a dire In realtà non ha dimostrato il teorema di Pitagora Pronto? Ecco qua Mamma Grazie tesoro Ecco a te Grazie Allora, ammettiamo che voi due vi sposiate Lei si convertirebbe all'ebreismo? Non siamo ancora a quel punto A dire il vero è interessante come domanda Io sono ateo Tesoro, metà degli ebrei che conosco sono atei È per la comunità Aus non è un appassionato di comunità E poi perché lo chiami Aus? Il tuo uomo si chiama Greg Così sembra che non sia una cosa seria Io voglio solo aiutarti a pensare al futuro Hai una certa età Una sfilata di fidanzati non deve essere divertente come un tempo Devi sistemarti Come tua sorella Sistemarsi non è meraviglioso come sembra È il compleanno di Sam e volevo portarla sui Montipoconos Non è veramente triste Forse non è l'argomento migliore per un'occasione di festa Ma non voglio che Rachel cresca pensando che sei una puttana Ok, ci penso io Prima di tutto, mammina Oh mio Dio Ma tu hai sedato mia madre Ha fatto effetto in tempo Si sveglierà tra un paio d'ore come nuova Vedilo come il mio regalo di compleanno per te Mi avevi detto di tenere la bocca chiusa Era l'unico modo per poterlo fare Tralasciando il fatto che Aus è un sociopatico Devo ammettere che sono onestamente sollevato Tua madre è davvero pesante Mi sento... Oh, non è possibile, non ci credo Hai drogato anche me Scusa? Pensavo che saresti stato peggio Era il mio regalo a me stesso Grazie a tutti Grazie a tutti